Nel 1929 la casa editrice Mondadore pubblicò una raccolta, una raccolta che si intitolava I libri gialli, una collana contraddistinta proprio dalla copertina di colore giallo intenso. Questa raccolta e il successo derivato ha fatto sì che il genere del thriller, delle detective story, del poliziesco, dell'art boy e del noir, così conosciuto a seconda delle diverse sfumature nelle altre parti del mondo, in Italia si è conosciuto appunto come genere giallo, appunto il genere che racchiude tutti questi elementi, un criminale, un colpevole, un'indagine, un investigatore. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche specifiche del genere giallo. Dobbiamo prima di tutto distinguere due grandi filoni, il giallo enigma e il giallo d'azione. Il giallo enigma è quello che chiamiamo comunemente il giallo classico e che quindi ha al suo centro appunto lo svelamento del mistero e il giallo d'azione invece ha la caratteristica di essere più fondato appunto, come dice la definizione stessa, su quanto avviene, su quello che compie il protagonista, sulle azioni appunto all'interno della trama, quindi è più ricco di colpi di scena. Nel giallo classico o a enigma il protagonista è un detective, detective attorno a cui ruota tutta la vicenda e tutta la trama si basa sulle capacità del detective, in particolare la sua capacità di tuttiva, la sua capacità di risolvere il caso. Di solito l'ambientazione è ristretta, viene scoperto un delitto e all'interno di una ristretta cerchia di persone il protagonista, il nostro investigatore deve trovare il colpevole. Molte vicende sono ambientate ad esempio in residenze di campagna, in navi da crociera, un treno, pensiamo a Sassinio sull'Oriente Express e all'interno di un numero limitato di sospettati si trova il colpevole, colpevole che viene sempre assicurato alla giustizia. Oltre a questo, quindi oltre a questo finale rassicurante, abbiamo anche altri elementi. Uno fondamentale è la sfida che in qualche modo l'autore lancia al lettore, nel senso che facendo seguire tutta la vicenda, quindi facendo vedere i vari indizi che il detective trova, l'autore invita in qualche modo il lettore a cercare di risolvere l'enigma in gara con il detective protagonista della vicenda. Caratteristiche diverse presenta invece il giallo d'azione, quello che nella letteratura americana è definito hard boiled, quindi duro, nel senso come sono il modo in cui vengono cotte le uova, le uova solte, quindi le uova dure, e in francese il noir. Al centro di questi racconti non c'è la capacità deduttiva del detective, ma c'è l'uso soprattutto dei muscoli e della testa. Il detective si muove in città metropolitane, spesso affollate, in situazioni di degrado, deve avere a che fare con piccoli criminali, con la criminalità organizzata, con la corruzione della polizia. Non sempre le investigazioni vanno nella direzione in cui si pensa, in cui vorrebbe anche il detective e spesso, anche se si arriva alla risoluzione del caso, questo non è rassicurante, non è positivo al 100%. Il protagonista si trova a dover riflettere sul significato della legge, della giustizia, del bene e del male. E spesso la sua decisione lo porta a rendersi conto di come la realtà in cui si trova ad agire sia una realtà fatta di tante sfumature di grigio, in cui non c'è un colpevole al 100% e un buono al 100%, ma buoni e cattivi sono mescolati insieme, in cui il bene si trasforma nel male e quindi il nostro detective, il protagonista del giallo d'azione, spesso è un detective disilluso che si rende conto di compiere un lavoro, ma che vede i suoi, diciamo, gli ideali di giustizia e di bene che devono scontrarsi con una realtà molto più complicata e sfaccettata. Le differenze tra questi due grandi sottotipi di giallo si manifestano anche nei protagonisti e degli antagonisti. Il protagonista del giallo classico è un detective di solito molto attento, molto preciso, spesso è un individuo eccentrico con alcune fissazioni strane, molto intelligente, molto attento, non particolarmente dotato dal punto di vista fisico, ma molto dal punto di vista intellettivo. Nel giallo invece d'azione i protagonisti sono molto più inquieti nell'animo, usano molto di più i muscoli, si trovano molto di più ad avere a che fare con i loro avversari in situazioni proprio di lotta e sono più propensi a mostrare quelle che sono le sofferenze e le difficoltà della vita. E allo stesso modo dicevamo anche gli antagonisti. Nel giallo classico il criminale di solito è un individuo isolato, al massimo una coppia, che pianifica il crimine con attenzione, con meticolosità. È un crimine che di solito viene fatto per ragioni economiche oppure viene compiuto per una vendetta personale, covata anche per molti anni. Nel giallo invece d'azione spesso c'è un intreccio di situazioni per cui non abbiamo un unico criminale, ma più criminali, magari un'organizzazione criminale, una banda di gangster che agiscono in modo violento e i colpi di scena sono continui. A volte le vittime stesse sono dei malviventi e da qui nasce il conflitto morale che riguarda e che colpisce il protagonista. Dal punto di vista delle tecniche narrative il giallo si è prestato nel corso degli anni a moltissime contaminazioni, ma alcuni elementi hanno avuto grande successo e accompagnano questo genere dalla sua nascita fino ad oggi. Ad esempio il narratore e la focalizzazione vogliono portare spesso all'immedesimazione del lettore con il protagonista. Quindi il narratore è spesso interno, a volte protagonista, ancora più spesso è un assistente del protagonista. Il caso più celebre è Watson, che è il narratore delle vicende di Sherlock Holmes. Quando il narratore invece è esterno spesso l'autore gioca sulla focalizzazione in modo che questa sia variabile interna quando è sul detective, in modo che il lettore possa vedere, sentire, capire quello che sta facendo il protagonista e quindi in qualche modo sentirsi parte attiva nella risoluzione del caso. Invece esterna quando vuole raccontare scene d'azione o momenti di suspense e di sorpresa. Dal punto di vista del lessico e della sintassi, quindi della struttura della frase, il linguaggio prediletto è quello semplice, un linguaggio spesso colloquiale, gen gergale, una sintassi paratattica fatta quindi di frasi corte e non subordinate tra di loro, proprio perché sono più immediate, più vicine alla concretezza e permettono una maggiore mimesi, quindi una maggiore, anche qui, immedesimazione, nel senso che non creano uno stacco tra chi legge e l'azione, ma avvicinano il lettore alla storia. Proprio per questi fattori, proprio per l'immedesimazione che si vuole ottenere, sono fondamentali due tecniche, la suspense e l'effetto sorpresa. La suspense è la caratteristica fondamentale del giallo soprattutto, del giallo anche d'azione, ma anche del giallo classico. Ecco la tecnica per cui il narratore fa sì che il lettore sappia più cose dei personaggi e quindi ad esempio una situazione di potenziale pericolo viene conosciuta dal lettore e il lettore così è appassionato, vuole vedere se i protagonisti, se i personaggi riusciranno a salvarsi dal pericolo immediato, dal pericolo che si sta per verificare. Un'altra invece idea completamente opposta è l'effetto a sorpresa, per cui avvengono una serie di colpi di scena, molto più spesso nel giallo d'azione, che sono colpi di scena per il lettore e per il protagonista, che quindi cambiano in qualche modo le carte in tavola nel corso dello svolgimento. Queste erano le caratteristiche del genere giallo, se avete domande e volete approfondimenti scrivetelo pure nei commenti qui sotto.